Fare gioco di squadra per controllare e prevenire i reati ambientali. Un tema finito prepotentemente sotto la luce dei riflettori dopo l'indagine sullo smaltimento illecito dei rifiuti delle concerie gestito dall'Andrangheta. Per tutelare al tempo stesso le aziende che rispettano le regole e l'ambiente. Adesso con una semplice foto della targa tramite un'app. In tutta la regione i carabinieri forestali potranno controllare la legalità del mezzo di trasporto dei rifiuti e le autorizzazioni rilasciate all'impresa titolare. La cosa più importante è trasmettere e riuscire a far metabolizzare a tutti gli operatori del settore e anche ai cittadini la cultura della gestione del rifiuto. La sottoscrizione del protocollo è avvenuta alla Camera di Commercio di Firenze. In più questo si incrocia bene nel momento storico che viviamo perché ecologia, e digitale sono due parole chiave che sentiamo sempre, questo sta veramente lì dentro perché ecologia, perché lavora proprio per l'ambiente e il digitale è lo strumento che abbiamo utilizzato per snellire le procedure. Sotto la lente di ingrandimento in particolare è il fenomeno del trasporto illegale di rifiuti che causa danni gravi all'ambiente e alle comunità che vi abitano e alle imprese che vi operano minando anche l'integrità del tessuto economico e sociale. Tutte le imprese che operano legalmente non dovranno subire controlli lunghi, il controllo è automatico da remoto. Siamo comunque la seconda regione in Italia per numero di addetti ambientali, perché abbiamo oltre 15.000 aziende iscritte al nostro albo regionale.